sotto le antiche volte della villa medicia di cafagiolo alle porte di firenze 30 anni di pittura di alberto savi dal 50 ad oggi una vera e propria scoperta già perché questo artista romano ormai quasi settantenne per più di mezzo secolo ha dipinto se non in segreto certo in privato lontano dai clamori delle mode libero dai condizionamenti del mercato sempre comunque attento al dibattito culturale del nostro tempo savi pittore solitario ma non isolato dal mondo e lo dice il suo linguaggio che partecipa delle scoperte delle avanguardie del nostro secolo dal cubismo all'informale rielaborate comunque con originalità soprattutto nell'impasto e nella stesura del colore che danno al dipinto quasi la consistenza plastica di una scultura d'altra parte savi iniziò il suo percorso artistico negli anni 30 come scultore passando poi alla pittura per raccontare con grande sensibilità poetica le memorie gli oggetti della sua infanzia e gli affetti familiari sì una felice scoperta